Sono molto molto carico perché abbiamo appena concluso un bellissimo dibattito dopo lo spettacolo con le scuole, i ragazzi delle scuole di Nicosia, con i professori. È un dibattito veramente, è stato molto molto interessante perché i ragazzi sono stati un pubblico splendido, hanno apprezzato, compreso e commentato lo spettacolo in maniera sorprendente. Torni a Nicosia dopo lo spettacolo di L'amore della Morti l'anno scorso, l'anno scorso Lingua Madre, ci spieghi che cos'è questa volta Apnea? Apnea è un monologo teatrale con due danzatori, cioè c'è un attore che interpreta un monologo e recita una pièce teatrale scritta da me e due ballerini che però interpretano, e quindi dico dance attori, interpretano col corpo gli stati d'animo del protagonista e poi ovviamente hanno un momento in cui ballano propriamente. Il testo si chiama Apnea, il tempo al centro del respiro ed è un monologo scritto sul tema in senso stretto diremmo dell'eutanasia, ma non è questo o non solo questo. è un monologo sulla libertà di scelta, sulla speranza che non sappiamo quando ci può cogliere e sull'amore, sull'attaccamento per la vita. Vogliamo ricordare che questo è il secondo appuntamento della rassegna Teatrando qui a Nicosia, invitiamo tutti i telespettatori domani a visionare il secondo spettacolo, che questa volta non sarà per le scuole ma sarà per il pubblico, ci sarà un pubblico pagante, un pubblico più adulto, di conseguenza vi invitiamo che lo spettacolo è veramente particolare e molto bello. Ringraziamo Mauro per questa intervista, grazie. Grazie a voi e grazie sempre al pubblico di Nicosia che si dimostra un pubblico veramente eccezionale, a partire dai ragazzi a cominciare agli adulti. Grazie mille. E noi ringraziamo Mauro per questi spettacoli che ci regala ogni anno, grazie. Grazie mille.